Con tre concerti con organico orchestrale, due dei quali assieme al coro, importanti collaborazioni, cinema e un grande repertorio musicale, torna la rassegna estiva di musica a corte. Ad organizzarla l'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini, il coro del Teatro della Fortuna Mizzio Agostini e l'assessorato alla cultura del comune di Fano. Saranno tre gli appuntamenti con altrettanti direttori d'orchestra di fama internazionale, quali Massimo Quarta, Roberto Molinelli e Daniele Agima. E ad inaugurare questa sesta edizione, sabato 5 luglio, alla Rocca Malatistiana, sarà proprio il maestro Quarta, direttore musicale dell'orchestra Rossini e violinista di notore età mondiale. Si parte subito, sabato 5, con Lirica sotto le stelle, che quest'anno ha una versione un po' particolare, infatti eseguiremo un repertorio sinfonico in realtà. Però l'occasione era talmente importante che abbiamo deciso di lasciare spazio a questo programma perché ci sarà il grandissimo Massimo Quarta. Il nostro direttore musicale per la prima volta sarà ospite di musica corte, interpretando nelle vesti di direttore d'orchestra la sinfonia numero 6 detta pastorale di Beethoven, uno dei capolavori più importanti della storia della musica, e la fantasia corale per soli, coro, orchestra e pianoforte, sempre di Beethoven. Dopodiché si passa al 14 con un programma dedicato al cinema, questa è una novità. Il cinema di un grande autore, Alfred Hitchcock, è The Lodger, il pensionante, un thriller del 1926 con musica composta appositamente da Roberto Molinelli. Termineremo con gli strepitosi Carmina Burana, opera tra sacro e profano, in cui coinvolgeremo ben 170 artisti, perché ci sarà la collaborazione tra due istituzioni, diciamo, la nostra, l'orchestra Rossini e il conservatorio statale di musica Rossini, il conservatorio di Pesaro. Sarà una vicinanza tra professionisti e studenti in una simbiosi esaltante, come è già accaduto quest'inverno al Teatro Rossini, tanto da poter definire questi Carmina Burana l'evento invernale musicale. C'è un'offerta multipla, nel senso c'è musica sinfonica, c'è anche questa sperimentazione nuova, cioè il commento sonoro a un film muto di Hitchcock, quindi si va a vedere qualcosa di abbastanza raro, data l'epoca del film, e poi c'è Carmina Burana di Karl Orfe, quindi abbiamo una politicità di eventi, prezzi molto contenuti, la tradizione viene salvaguardata anche per i palati un po' del lirismo più che della lirica, e poi c'è appunto qualcosa di diverso, di sperimentale, quindi penso che anche quest'anno l'offerta sia ricca e per questo ho spesso soddisfazione.